dove c'era del grande fitness c'era il team di country fitness quando la musica parte che vedi che tutta la gente intorno a te si muove esattamente come te e al tuo stesso ritmo, quella è una sensazione straordinaria, qualcosa di magico. Se devo racchiudere il concetto di country fitness in una parola io non posso dire altro che gioia. Per me è gioia.